Dalla piccola officina di 80 metri quadrati fondata il 13 settembre 1962 in via Montefreddo Numana ad una struttura funzionale e moderna di 15.000 metri quadri, dei quali 7.500 coperti, 7.000 di stabilimenti produttivi e 500 di area amministrativa. E' stato uno sviluppo esponenziale ma sempre armonico ed equilibrato, quello della Guerrini S.P.A., che ha inaugurato con una bella giornata di festa il nuovo stabilimento in via delle Fisarmoniche a Castelfidardo. Non pensavo mai di avere un successo così grande di personale, di tutti, perché hanno partecipato tutti gli inviti che è stato mandato, è stata una cosa veramente fuori delle mie previsioni. Sono talmente soddisfatto perché significa che veramente la gente ci crede su quello che noi facciamo. 80 dipendenti, 130 trattorni e macchine da ripresa e montaggio di ultima generazione, un centinaio di clienti tra Italia e paesi esteri, 18 milioni di euro di fatturato nel 2007. La Guerrini S.P.A. rappresenta insomma uno dei piccoli grandi miracoli economici della nostra regione. La famiglia Guerrini è protagonista di un percorso di crescita e di sviluppo straordinariamente importante perché avviene nel processo di innovazione tecnologica continua. La giornata di inaugurazione è stata particolarmente intensa ed interessante. Dopo il taglio del nastro gli ospiti hanno visitato il nuovo stabilimento, quindi l'appuntamento è stato reso ancora più suggestivo dalle letture teatrali di Luca Violini e dalla musica della piccola orchestra swing e di Mario Stefano Pietrodarchi alla Fisarmonica e Bandoneon. Altro momento significativo, la messa celebrata all'interno del nuovo stabilimento dal vescovo di Ancona, Edoardo Menichelli. Avevo già avuto la gioia di essere in questa azienda qualche tempo fa e ne ho già ammirato la qualità, il progetto lavoro e anche apprezzato molto un luogo, come posso dire, di comunità al lavoro, cioè dove c'è una sorta di relazione piena tra le persone, sia tra i proprietari e le maestranze. Dalla piccola officina di 80 metri quadrati fondata il 13 settembre 1962 in via Montefreddo Numana, ad una struttura funzionale e moderna di 15.000 metri quadri, dei quali 7.500 coperti, 7.000 di stabilimenti produttivi e 500 di area amministrativa. È stato uno sviluppo esponenziale ma sempre armonico ed equilibrato, quello della Guerrini S.P.A., che ha inaugurato con una bella giornata di festa il nuovo stabilimento in via delle Fisarmonica, che è a Castelfidardo. Non pensavo mai di avere un successo così grande, personale, di tutti, perché hanno partecipato tutti gli inviti che è stato mandato, è stata una cosa veramente fuori delle mie previsioni. Sono talmente soddisfatto perché significa che veramente la gente ci crede su quello che noi facciamo. La soddisfazione più grande è il gruppo familiare, guarda, il gruppo familiare è un senso talmente così importante che è la spinta e poi viene tutto e tutti i collaboratori perché anche loro sono lineati un po' alla nostra politica. Noi crediamo molto sulle risorse umane. 80 dipendenti, 130 trattorni e macchine da ripresa e montaggio di ultima generazione, un centinaio di clienti tra Italia e paesi esteri, 18 milioni di euro di fatturato nel 2007. La Guerrini S.P.A. rappresenta insomma uno dei piccoli grandi miracoli economici della nostra regione. La famiglia Guerrini è protagonista di un percorso di crescita e di sviluppo straordinariamente importante perché avviene nel processo di innovazione tecnologica continua, a fronte di una concorrenza spietata, una grandissima determinazione a investire, acquisire le conoscenze più avanzate per reggere la sfida. Qui oggi non c'è solo un'inaugurazione ma c'è una conferma del fare in una società in cui abbiamo bisogno di punti di riferimento certi da trasferire a giovani il cui futuro è sempre più incerto. Quindi oggi c'è un insieme di cose che valeva la pena vivere direttamente e non farsene raccontare. La giornata di inaugurazione è stata particolarmente intensa ed interessante. Dopo il taglio del nastro gli ospiti hanno visitato il nuovo stabilimento quindi l'appuntamento è stato reso ancora più suggestivo dalle letture teatrali di Luca Violini e dalla musica della Piccola Orchestra Swing e di Mario Stefano Pietrodarchi alla Fisarmonica e Bandoneon. Altro momento significativo, la messa celebrata all'interno del nuovo stabilimento dal vescovo di Ancona Edoardo Menichelli. Avevo già avuto la gioia di essere in questa azienda qualche tempo fa e ne ho già ammirato la qualità, il progetto lavoro e anche apprezzato molto un luogo come posso dire di comunità al lavoro cioè dove c'è una sorta di relazione piena tra le persone sia tra i proprietari e le maestranze. Da quel lontano settembre di 46 anni fa la Guerrini S.p.a. ha dunque fatto molta strada ma la Guerrini è differente da altre realtà come hanno sottolineato in molti grazie alle persone che compongono questa azienda come una sorta di grande famiglia e Valerio Guerrini sempre con la signora Maria al suo fianco nella vita è stato bravo a tenere costantemente unite queste persone coinvolgendo poi nell'attività aziendale anche le figlie Antonella, Panina e Silvia insieme ai rispettivi mariti. Il concetto su cui si basa la nostra politica aziendale io la vedo in un vecchio detto l'unione fa la forza e molto impegno e attenzione sono stati messi per tenere compatti, soddisfatti e motivati tutti i componenti di quel grande team che è la Guerrini S.p.a. e che hanno reso possibile il sogno che ora stiamo vivendo. Voglio infatti ringraziare tutti perché ognuno è protagonista della realtà che siamo diventati. Persone certo ma anche gli strumenti di lavoro ricoprono una grande importanza e la Guerrini ha sempre investito moltissimo nelle nuove tecnologie arrivando a disporre delle attrezzature più moderne e funzionali. Nel nostro parco macchine abbiamo macchine a controllo numerico, plurimandrini a controllo numerico, controlli numerici monomandrini, controlli numerici meccanici e abbiamo anche gruppo macchine vecchi torni tradizionali a cam e fantina fissa. Grazie a questi mezzi l'azienda ha ottenuto i numeri importanti che citavamo con un portafoglio clienti oltretutto estremamente fidelizzato. Abbiamo dei clienti che come detto anche durante la manifestazione che sono da 46 anni i nostri clienti che tuttora acquistano da noi e che tuttora sono fedeli. Ultimamente stiamo prendendo anche dei nuovi clienti verso l'Europa dell'Este anche se la battaglia è dura perché la concorrenza è molto spietata. Valerio Guerrini che dalla piccola officina di via Montefreddo all'Umana al nuovo stabilimento di via delle Fisarmoniche a Castelfidardo ha costruito passo dopo passo e con grande passione una realtà così importante, agli amici talvolta confessa che questo settore lavorativo non gli piaceva nemmeno troppo. I risultati, più che brillanti, sembrerebbero testimoniare il contrario. Complimenti.